Allora la prima domanda è questa, perché siamo arrivati al razzismo, a questo razzismo qui che c'è in Italia ora? Ma non è che ci siamo arrivati, c'eravamo già, perché il razzismo è legato alla storia italiana sin dalle origini. Il primo razzismo, il primo stereotipo razzista è stato costruito all'Unità d'Italia nel 1861 rispetto ai meridionali, ai calabresi. E poi vorrei sapere, secondo te perché questa classe industriale è così aggressiva? Ma questa classe industriale è così aggressiva perché come tutte le classi industriali cerca di spremere al massimo le persone che lavorano e oggi occorre spremere molto per mantenere la concorrenza. E questo, secondo te, la Fiat andrebbe ripresa o no? Andrebbe ripresa dagli operai o no? Sono gli operai che devono decidere cosa fare, non possiamo dire noi che cosa è meglio, che cosa è peggio. Ok, va, grazie. Ciao.